Lo stadio Zini sarà acquistato dalla Cremonese. Questa è la proposta che la società attuale gestore dello stadio cittadino fino al 2037 ha formulato al Comune. La Giunta, dopo un approfondimento con i tecnici comunali tenendo conto della perizia redatta da un tecnico esterno, ha deciso di aderire alla proposta della società Grigiorossa sulla base della quale, secondo la normativa in vigore, nei prossimi giorni il Comune di Cremona avvierà una procedura di evidenza pubblica per verificare eventuali altre offerte migliorative. In base alla proposta della Cremonese, il Comune di Cremona manterrebbe la proprietà dello stadio Zini affidando il diritto di superficie fino al 2118 per un importo di 2.863.000 euro. L'offerta della Cremonese e la valutazione fatta dai tecnici comunali e dalla Giunta tiene conto di due elementi chiave. In questi anni la società ha realizzato con oneri interamente a proprio carico significativi interventi alla struttura per circa 4 milioni di euro. In futuro poi c'è la necessità di effettuare interventi straordinari e non derogabili del valore di circa 8 milioni e 630 mila euro, che è un valore superiore allo stesso stadio, per consentire di adeguare l'impianto ai criteri previsti dalla più recente normativa nazionale, necessari per la disputa del campionato di Serie B. Grazie. 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 Grazie.